Meno di 24 ore scatterà l'ennesima versione della ZTL entrata in vigore durante le regate di America's Cup. Da domani alle 10 infatti in via Chiatamone si camminerà all'incontrario. Qualche metro che nel suo piccolo rappresenta una rivoluzione storica, tant'è che il provvedimento è stato a lungo studiato dall'assessore alla mobilità del comune Anna Donati, che ha dovuto provvedere alla sostituzione dei segnali, ad invertire le fermate dei bus ed organizzare la distribuzione di volantini per informare residenti ed automobilisti. Nel dettaglio, da domani le auto che percorrono via Arcoleo potranno raggiungere l'area di via Santa Lucia anche attraverso via Chiatamone, con senso di marcia dalla Galleria Vittoria a via Santa Lucia. Inoltre, per poter raggiungere via Nazario Sauro, sarà invertita anche la direzione di marcia su un tratto di via Lucilio. Invece, chi da via Santa Lucia dovrà andare verso Piazza della Repubblica potrà utilizzare via Acton. Precisamente all'incrocio con la Galleria Vittoria si potrà girare a sinistra, prendere il tunnel ed immettersi in via Vannella Gaetani. Il provvedimento non va giù ai residenti di Chiaia ed il presidente della prima municipalità, Fabio Chiosi, annuncia battaglia. Sono molto preoccupato per questa inversione di senso di marcia di via Chiatamone, perché avendo verificato che già in via Arcoleo, via Vannella Gaetani, riviera di Chiaia, ci sono dei tassi di smog relatissimi, abbiamo chiesto i rivieri all'ARPAC, a breve avremo anche i dati, sicuramente anche in via Chiatamone ci sarà un aumento dello smog molto, molto considerevole, visto che la sosta rimarrà su ambe i due lati e triplicherà ovviamente il flusso di traffico sulla strada. Ci saranno disagi per i residenti, perché ovviamente per raggiungere il centro dovranno girare per via Acton, appesantendo il tunnel, e a giugno il Consiglio della Municipalità si riunirà e presenterà un pacchetto di proposte di modifica.